ciao a tutti oggi facciamo la prima accensione del forno a regna fai da te che ha fatto mio andiamo vediamo vai ecco qua già pronto già sono due tre giorni che qui già è pronto ecco come si sta accendendo ecco lo scarico del fumo già già funziona va bene allora vuol dire che va bene questo adesso è una prova che facciamo per due o tre giorni facciamo così poi faremo la pizza faremo la pizza vi facciamo vedere anche questo che ha fatto mio padre due pari pare pare questo è per girare la pizza dentro questo è per metterla e toglierla si mettere e toglierla mettiamo anche un po' così si a poi metteremo anche qui una si tutto fatto artigianalmente il fuoco la via va chiesa però ne ha al massimo appena appendiso per farlo stabilizzare si allora però io la arriverà dal massimo tempo da più cresce cresci fumo esce fumo esce si già il calore si sente prenderemo dobbiamo prendere un termometro scritto guardate che bella fiamma si sta si sta espandendo bene bravo cognato dai che dobbiamo fare la pizza dai allora anche questo pomeriggio abbiamo acceso il barbecue ok stasera abbiamo fatto la prima estensione del barbecue è più tardi come si fanno i carboni faremo una bella criata di carne si per vedere come viene questa favorita si questa mattina abbiamo acceso il forno per la prima volta e questo pomeriggio il barbecue è ancora caldo da una e mezza da una e mezza e abbiamo messo anche questo uccellino ma non è come che riusci poi c'è una piccola bene bene ecco la carne a buon punto come ha detto mio padre prima stiamo facendo la prima grigliata la stiamo provando per la prima volta capocollo e salsicce capocollo e salsicce da iscriterra del gargano visto che è molto più a buon punto il bambino e salsicce da fuoco con la parola quasi pronto un altro po cinque minuti cinque minuti poi più la poi vede e manca il forno ciao a tutti oggi finalmente facciamo la pizza proviamo il forno in questi giorni l'abbiamo acceso, l'abbiamo infuocato bene e oggi lo mettiamo all'opera. Oggi mia zia e mia madre sono all'opera. Vediamo la prima pizza, eccola, messa dentro, ma non è come crocifo. L'abbiamo pulito, i mattoni per terra, da stamattina che... vai vai chiudi chiudi, da stamattina che abbiamo acceso e vediamo come va. Ecco quella è la prima che abbiamo messo, adesso abbiamo aggiunto altre due, è già bolle. Ecco abbiamo anche preso un tubo di ferro, abbastanza lungo. Qui mio padre ha messo la colla. Questa è la quarta. Finito una delle tre, che ci sono già dentro, mettiamo questa. Togliamo la prima, che sicuramente è fatta. Piano piano, eccola qua. Guardate il fumo. Bella, cipolle, pomodoro e formaggio grattugiato. La pizza c'è anche per voi, Iago e Oscar, non vi preoccupate. Mettiamo la seconda che si sta quasi per finire. Abbiamo dato una controllata. E qui ci sono anche due piccole pizza sfoglie. Le prime due pezze sono fatte, adesso mi metto sotto l'ombrellone qui, perché al sole non si può stare. Questa è la prima volta, come ho detto prima, che abbiamo acceso, abbiamo fatto le pezze. E ora piano piano prenderemo la mano. E' normale che all'inizio è uscita un po' bruciata, ma niente di che, è mangiabile al cento per cento. Adesso mettiamo piano piano. Si impara, va? Si impara. Poi qua mettiamo i tavolini, qua mettiamo. Poi portate il birro, vino. Facciamo dieci euro al pezzo per tutti. Scondate. SMG ha il credo di cielo. Adesso mettiamo la mozzarella. Mozzarella già grattugiata, l'MD. Scondo. Mettiamola dentro. Quanto è bella. La pizza sfoglia anche. La piccola sta andando bene. E mo chiudiamo di nuovo. E la terza anche è finita. Cipolle, mozzarella, pomodoro e basilico e olio. Fai da te. Cotto e mangiato. Allora, la pizza che abbiamo messo, la mozzarella si è sciolta tutta. Mi che bella. Adesso la cacciamo. Ehi quanto è bella. Ehi, vi come è bolla. Bella bella. Ehi la mozzarella proprio. Buona. Ah, un po' di vendicello. Allora, volevo dire che il termometro per adesso non l'abbiamo preso. Abbiamo fatto l'ordine. Ci dovrebbe arrivare perché qui nei negozi vicino a noi nessuno ce l'ha per il forno al regno. Né magnetico, né non c'è. Da internet dobbiamo aspettare. Per adesso andiamo a occhio. E' la prima volta che l'abbiamo acceso. Bah, è uscita abbastanza bene. Tutte e quattro i pezzi di pizza. Anche la focaccia. Poi, piano piano, miglioreremo. Si migliora. Ecco l'ultima. Che bella. Vai, vai. Sotto la luce del sur. E che bella, eh. Bella, eh. Questo costo 15 euro, però, perché è più grosso. Va bene, bene, bene. Comunque scherzo, come sempre. È tanto per dire una chiacchiera. Anzi, se vi trovate a passare, siete imbenvenuti e vi invitiamo con piacere. Ok, abbiamo finito con la pezza e adesso proviamo con il pane. Ecco qua. Vai, inforniamo. Proviamo anche con il pane. La pezza è uscita bene. Ok, messo. Allora, è passato mezz'ora e vediamo il pane. Se è cotto. Ecco. E che bella, lì si è alzato bello bello. Due panette di pane. Manca poco ed è quasi fatto. Qui il tempo, il sole non c'è più e stanno facendo i tuorzi. dietro di me, ma il tempo, però, si sta ancora bene. Stasera, che viene papà dal lavoro, avrà anche il pane. Ecco, il pane è cotto. Abbiamo provato anche a fare il pane. È un bel colore, sembra. Buono, buono. Poi lo affettiamo e vediamo all'interno come è uscito. Qui nel frattempo, il tempo è nuvoloso, è diventato. Dal sole è diventato tutto nuvoloso. Adesso il pane lo facciamo raffreddare un po', lo affettiamo e vediamo come è uscito e vi faccio vedere anche a voi. Ecco, mio padre è arrivato, è tornato, ciao, 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 ciao Mimmo. E adesso tagliamo il pane, vediamo come è uscito, sì. Morbido e morbido. Sì. Morbido e morbido. L'abbiamo lasciato raffreddare un po'. Si sente la croccantezza. Vedi che bello, vedi che colore dorato. Bello, bello. Bellissimo. Perfetto. Bene, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Il pane è uscito bello bello, anche la pezza, ma stasera più tardi ce la mangiamo. Tra un po' prenderemo anche il termometro, come ho detto prima, non c'è, per adesso andiamo a occhio. Però va abbastanza bene il forno. Funziona, funziona. Se vi c'è qualcosa di raffreddare, chiamatelo. Sì. Grazie per la visione, mettete un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete, alla prossima e ciao a tutti e buon appetito. Grazie per la visione.